Ma sicuramente è un test che ci mette minuti nelle gambe e comunque essendo tanti nuovi ci aiuta a conoscere il compagno meglio e mettere in campo quello che il mister ci chiede, quindi l'ho parlato comunque positivo. Hai corso tantissimo, credo che tu abbia fatto più chilometri di tutti messi insieme ai giocatori oggi. Diciamo che la corsa non mi è mai mancata, però io mi metto a disposizione della squadra e del mister e cerco di fare il massimo per aiutare la squadra. Come ti stai trovando in questo gioco del tecnico Tabbiani? Mi sto trovando bene e ci chiede cose nuove rispetto alle altre avventure che ho fatto, quindi sto cercando di mettere a disposizione massima. Ci vuole ancora tempo, però sono contento, mi sto trovando molto bene. Grazie Roberto e complimenti.